Eccomessi Cree Cree J TV The Magical World of Christian The Magical World of Christian E ciao ragazzi oggi siamo su un nuovo video Facciamo Toro contro Sampdoria Non ci crederete mai il titolo è E Toro? Riuscireste A vincere con Messi Qua Messi Leon and the Messi Praticamente Oh my God Leon and the Messi Il Torino ha acquistato Messi Ce l'abbiamo in squadra e andiamo a vedere Se il Torino riuscirà a fare un gol E non più a prenderne tantissimi Come nelle ultime due partite Ovviamente ogni gol apriamo una bustina Di calciatori e tante sorprese ci attendono Vamos! Ma aspetta Anche se Messi non gioca nel Toro Gioca nella Juve Ma chi se ne frega Noi mettiamola anche nel Lecce E allora vince sempre il Lecce Ti vuole altre partite Con Messi Ce lo faccio sapere con un commento Allora siamo insieme Ecco Allora in primo Primo turno C'è soltanto il portiere Siamo insieme Ce la possiamo passare Secondo c'è un difensore Poi due Poi tre difensori Quindi iniziamo con questa sfida allenamento Che fai? Eh non lo so è difficile Hai perso palla Ma questo mi marca tantissimo Ehi Scusa Ti faccio un filtrante Ma cosa ho fatto? Ho premuto due tasti Ripassa Calo un filtrante Tira Passa a te Vai di testa No e dai ancora ci siamo Vai Ok Ripassa No No Mille o mille Tutti i punti Passa No Vedi non sappiamo giocare insieme Ecco perché perdavamo sempre insieme Pum Niente da fare Ultimo tentativo Che cacchio fai? Ho sbagliato tutto Zero punti Siamo troppo scarsi Andiamo nella partita vera Ok si parte Free two one go Ok Belotti Messi Messi prende subito la palla Il suo primo pallone nel Torino Rincon Margate Ah c'è il fuori gioco Sì sì c'è tutto Tutte regole normali della partita L'unica L'unica novità è che c'è Messi Che gioca nel Torino Come attaccante destro Ecco Baselli No No Mamma mia Messi 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 alla palla Messi attacca Attacca wow Come attacca No No Ok Audero Audero Il mio portiere si chiama Audero? Audero sì Ok Baselli intercetta centro campo Non so chi passarla Belotti Baselli Ma dai Ma tutti vanno marcati Certo Dov'hai Messi? Dai metti l'azione Ma non lo so È il numero 10 C'è non riesco a passarla Che non mi fai neanche respirare Respirare un attimo Metti questo Messi in azione Dai Ma non mi fai respirare un attimo Non riesco a giocare con Messi Dai Respira Respira Grazie Non ti grattare Non ti grattare Sto scherzando dai Ecco quello che è È Messi Oh che finta di Messi Drippa Messi Mi drippa tutti Con lei Con lei Con lei Recupera Messi Ma dai Questo è fallo Ma questo è fallo Ma questo è fallo Ma no che Messi Ma datemi il fallo Ma datemi il fallo Ma che cacchio Un fallo Fuori gioco Ma poi Messi Magrolino si stava scontrando No 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 Con uno dei miei che era bello robusto Bello robusto Sì so Ecco Marandi Messi la frega La frega frega palla Si dice frega palla? Si Ok Messi cross al centro Noo Falla Ancora Messi che attacca Butta giù Ma che cacchio Bello Messi Fallo di Messi su Morru No se Vuoi rigore Aspetta Vediamo un attimo Uh Il mio Mani No dai Non lo so se hai mani Ragazzi era fallo Di cosa? Noo Ma non è Era fallo Ma questa cosa È un'ingiustizia ragazzi Messi ha fatto rigore No ha fatto fallo Su Morru E mi dà rigore a me Ma no Fala 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 Dovevi fare tirare Messi Perché non hai messo Messi? Fallo su Poi era un rigore ingiusto scusa Messi fa fallo su di me E dà rigore a voi Ma che arbitro venduto? No ecco No ecco Viera No Qui c'è un arbitro venduto eh Un arbitro corrotto Non è possibile se dà il fallo anche questa volta a voi Ah no fuori gioco del Torino quindi fallo per la Sampdoria Già già va tutto avanti Messi Messi di nuovo in centrale Confusione Murato da Colle Non so che nome Finte ripetute si fa fregare la palla Belotti che avanza verso l'area avversaria Colle recupera in area Messi dietro Retro passaggio Finta 1-2 Viera Quagliarella Dreaming di Quagliarella Avanza Pallonetto Tira di testa Per un soffio non fa gol C'è Ma Come Come il cartellino giallo E non l'ho capito neanch'io Guardiamo un attimo il replay Ah mi hai fatto lo sgambetto Acquagliarella Non è fuori gioco Non è fuori gioco Anzaldi Zaza Ma perché c'è Bruno Domi rubate la palla Perché il Torino è un po' scarso Devi per fare gol usare Messi Attaccare dalla destra Non parla neanche No parla E' un modo di dire E' un modo di dire Passa verso Messi E' un modo di dire che te mi mangi sempre là E non qua Quindi Oh Burru Che prima Ha causato il rigore ingiusto secondo Il pubblico Quagliarella Filtrante per Quagliarella Fermato da Bremen Contropiede del Torino Con zazza ring con Zazza velotti 이트 Zazza TIRA SI Mi sono concentrata al massimo e dammi il mio pacchetto 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 Maa Ma dammi un pacchetto Ho trovato la tua maglia Ho trovato la tua maglia Ho trovato un'altra maglia Sono fortunato Hai trovato maglia della Sampdoria E maglia dell'Udinese Scudetti della Serie C Non hai vinto, sto andando veloce perché ho paura Che papà vara Torino Infatti devi fare in fretta perché quando riparte La partita riparte Basta dico soltanto le squadre Bologna Ok, vamos Sampdoria da centrocampo con Quagliarella Finisce il primo tempo Quanto siamo? Gole 1-0 Tiri ne ho fatti 4 e te ne hai fatto 0 Quindi Un po' più di forza Un po' più di energia Un po' di più entusiasmo I fans che ti fanno La Sampdoria dicono Papà di Chris Sì scarsa con la Sampdoria Era bello che ti prendeva il Torino Tanto perdi sempre Sì comunque devo dire una cosa Che il Torino anche con Messi Non è che eccelle molto Messi è un po' spento Vediamo se si risulta Ok Adesso te lo faccio vedere io Messi Non mi Messi Messi è una pulce È piccolino che tutti lo buttano per terra Pulce Pulce Quagliarella è forte Quagliarella è forte Il più forte di tutti è Quagliarella Messi contro Linetti Messi contro Linetti Vince Vince il dribbling Vince lo Vince il dribbling Messi Così impari Hai detto che Messi è spento È accendissimo Muto Messi comunque non ha ancora fatto gol La stella Messi Ci ha provato quindi Oh distanza Distanza Grazie Vai Messi Ecco di nuovo Messi Messi al limite dell'area del Torino Retro passaggio di Messi Forse è sbagliato E forse Nicolò 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 Lo leggi la I Non lo so Un po' invento il nome Gastone Gastone per Ekdal Ekdal filtrante Izzo blocca E riparte Di nuovo Messi Passa Belotti Ecco il duetto Messi Belotti Filtrante di Belotti su Messi Messi attacca dalla destra Cross Salva Augero Oh Aldero Audero Non Augero Augero gioca Messi recupera Micidiale Messi in questo secondo tempo Dal danamento del filo da tolce La Sampdoria Tirano Sì Mamma mia Secondo pacchetto Ma da qua E la peppa E la peppa Torino Rincon Pal Neda Tomovic Parma Chi è il nome? Ma non lo so Inventa Yank Karamon Lazio Andan Marushkik Mezzo pullman del Par Del Blasphal Mezzo pullman della Sampdoria Io sono partito No aspetta mi devo grettare Eh dovevi fare più veloce Più veloce Mi devo pure dire i due nomi Quindi Sei lento Ma perché non so leggere veloce Ah ok scusa Non sapevo Diedo scusa No intanto Baseli mi frega la palla Così impari Vai avanti Baseli corre come un treno Corre come un treno Mi fanno fatica A recuperarle La palla Era fuori gioco di Bellotti Ma che cavolo Infatti anche lui ha fatto così Se Bellotti faceva il terzo dito All'albitro era Era espulso Era espulso di sicuro La Sampdoria Tenta di recuperare Tenta di reagire Con Quagliarella Che dovrebbe essere in attacco Invece non so cosa fa lì Forse si fa un picnic A Quagliarella Filtrante Gastone Mi sto arrabbiando Gastone filtra tutti Entra in area Passa Quagliarella Prova il tiro No Troppo debole Rasoterra Sirigu Lo prende con facilità Ma il gol di Messi Non l'abbiamo ancora visto Messi la pulce Messi la pulce Messi la pulce Messi la pulce Messi è troppo veloce Allunga troppo Cioè anch'io sono veloce Ma non me l'allungo così troppo Anzi io sono veloce Come Messi Ma non me l'allungo troppo All'anno da Silvestri Messi non si è ancora integrato Con il Torino Ecco che Messi ci riprova Sarà la sua occasione Forse non ancora Messi Che finta di Messi Però Murro Murro contro Messi Murro contro Messi Velocchi recupera Passa Messi Messi si smarca E segna In mezzo a due attaccanti Voglia della Roma Coppa Italia Coppa Italia Coppa Italia Non l'avevo vista Squadra delle femmine Della Fiorentina Non hai vinto Come si dice Il Torino in questa ultima fase di gioco Sembra molto più forte Comunque Murro Murro scavalca l'over Scavalca un altro E Murro E Murro E Murro E Murro Ok Della bandiera per salvare l'orgoglio Per la Sampdoria Abbiamo Quagliarella al tiro Bomba di Quagliarella Te l'ho parata Ci riprova E para Sirigu Imponente Sirigu In questa fase No Cosa hai preso? Ragazzi Ha preso qualcosa Ho visto che allungava le mani Se avete visto Che ha rubato una bustina Fatemelo sapere in un commento Dice che non ha niente Dove li hai presi Quei pacchetti? Me li hanno regalati Quindi io posso aprire Appiamolo insieme Dai Uno per volta Uno fortissimo Non ne dovrete mai Lo faccio vedere Protone Guardate qua chi ho Chiellini Chiellini Mezzo Bologna Madaljei Fiorentina Rogerio del Sassuolo La mia squadra preferita Sampdoria De Paoli Due femminucce Che non so in quale squadra sono Non hai vinto Top 11 Top 11 Juventus e Milan Lecce Abbiamo Marco Mancosu Spal Arcadius Greca Ciao a tutti Scrivetevi anche al canale Di Playmoito Che sono io Link in descrizione Ho finito l'udinese con questo La mezza squadra Orsolini Bologna E l'ultima Che squadra ti piace? A me piace il Sassuolo O Bianche il Sassuolo Oh Squadra mia preferita Sperate di vedere se è piaciuto Ciao 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 Bella naga Ciao 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 Ciao